Un libro per raccontare le cardiopatie congenite e per sensibilizzare giovani e meno giovani sull'argomento. Parliamo del libro Il Paese dei Cuori, Velu Tarbor Evo, che gli autori Roberto Tumbarello e Sabrina Montis hanno presentato ieri nel Palazzo del Comune di Cagliari. Una pubblicazione promossa dal reparto di cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite dell'azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione Giuseppe Brozzo di Cagliari. 300 copie del libro saranno donate alle scuole della Sardegna, una donazione che consentirà a tutte le scuole statali dell'isola di avere un testo a disposizione che coniuga il rigore scientifico ad un linguaggio accessibile a tutti. Grazie.